La pressione sugli ospedali è ancora alta sia a livello di terapie intensive che a livello di reparti Covid. Stiamo vedendo in questi giorni un abbassamento dei numeri di contagi a livello della regione Abruzzo, ma questo abbassamento si ripercuoterà più lentamente sugli ospedali perché l'andamento è circa spostato di due settimane tra il tempo delle infezioni e il tempo dei sintomi. Per cui questi primi risultati della zona rossa che si stanno vedendo con l'abbassamento dei positivi si rifletterà sugli ospedali con circa 14 giorni di ritardo. Stiamo adesso vedendo anche sugli ospedali, comincia a esserci anche qui un rallentamento, ma è più lento rispetto a quello che è a livello del territorio, proprio perché ci sono queste due settimane di latenza. Noi speriamo e ci auguriamo, e dai primi dati che stiamo elaborando sappiamo che ci sono 21 parametri in cui tiene conto il Ministero. Molti di questi parametri sono rientrati all'interno del range di pseudonormalità, per cui noi speriamo che nei prossimi giorni possiamo uscire dalla zona rossa e rientrare nella zona arancione. Noi lavoriamo tantissimo giorno e notte in condizioni veramente pesanti, perché io volevo invitare qualche volta la televisione possibile, purtroppo non possiamo farla, a vedere in che condizioni lavora il personale sanitario, in cui colgo l'occasione per ringraziarlo tutto, con tute, maschere. Abbiamo anche difficoltà a volte per l'alimentazione anche di un semplice caffè che potrebbe essere un attimo di ristoro, proprio perché abbiamo la necessità di accudire questi pazienti in protezione e in sicurezza. Quindi noi non facciamo altro che rinnovare continuamente la pelle alla popolazione che se nei periodi di Natale, noi ci auguriamo, possiamo tutti riprendere una pseudoattività normale di non scordarci di quelle che sono le condizioni di sicurezza, che sono, ripeto, poche e poche, perché l'uso della mascherina, un distanziamento sociale, il lavaggio spesso delle mani, non mi sembra un grosso sacrificio, ma queste piccole avvertenze, queste piccole attenzioni risparmiano sul mondo sanitario una pressione fortissima. Ringrazio tutta la popolazione che ha contribuito a diminuire la pressione sui pronto soccorso per quanto riguarda i pazienti cosiddetti puliti, cioè non Covid, mentre la pressione Covid è ancora alta e, come dicevo prima, scenderà più lentamente.